Ciao a tutti ragazzone, bentornati, bentornati anche oggi in un nuovo video. Oggi video sponsorizzato, ma video sponsorizzato è molto, molto utile. Non accetto sponsor con brand o marchi che non credo ne valgano la pena. Oggi voglio parlarvi di Tenoshare. Tenoshare è un software che ti permette di recuperare, riparare, gestire i tuoi dati e il tuo computer in modo facile e sicuro. Quindi se perdete dei file potete riuscire a recuperarli, se li cancellate per errore da una chiavetta, dal vostro computer, da una schedina OSD potete riuscire a provare, a recuperarli e io l'ho già anche testato e funziona. Anzi, poi vi racconto, ma sono il nostro abbastanza sbalordito. Oltre questo, comunque, questo software ha altre diverse applicazioni e funzioni. Può anche trovare, rimuovere i file duplicati, quindi liberare spazio su un computer e ottimizzare così le prestazioni, riparare e ripristinare foto e video corrotti. Magari vi è capitato qualche volta di andare ad aprire un vecchio hard disk, provare a cliccare su un video e magari non funzionava più. Con Tenoshare si può provare a recuperare anche quelle foto, quei video che appunto si sono corrotte e magari c'erano i vostri ricordi. Ovviamente va benissimo anche per recuperare documenti, magari cose di lavoro che sono state danneggiate, da virus, errori di formattazione, eccetera, eccetera. È anche un gestore di partizioni disco all-in-one, quindi per creare, ridimensionare, spostare, copiare, cancellare, formattare le partizioni appunto del disco in modo semplice e sicuro. Quando magari si aggiunge un disco si devono spostare i vari file, si spostano magari i disco esterni da un PC all'altro, eccetera, eccetera. Ed è anche la migliore soluzione per risolvere i problemi all'avvio di Windows, quindi riparare il sistema operativo, riavviare il PC in caso di crash, schermata blu, appunto loop di riavvio, altri problemi. Si può appunto installare anche su una chiavetta in modo da poter ripristinare un computer che magari è crashato. Ma dopo questa piccola spiegazione di cos'è questo software, andiamo subito a testarlo. Oggi testeremo appunto la parte in cui magari abbiamo perso dei file, andrò a mettere dei file su una chiavetta esterna, andrò poi a cancellarli e vi farò vedere che con l'aiuto di questo software potremo recuperarli. Intanto voglio farvi vedere direttamente il loro sito, che vi lascio comunque qua sotto in descrizione e anche nel primo commento, quindi basterà che cliccate sul link e arriverete in questa pagina. Qui vedete appunto la schermata iniziale, come vi ho già detto prima, potete recuperare dati dal laptop, unità interne ed esterne, chiavetto USB, schiede SD, archivi NAS, eccetera, eccetera. Recuperare oltre 2000 tipi di file, tra cui foto, video, appunto i documenti, file audio, recuperare file peus a causa appunto di cancellazioni accidentali, formattazione, eccetera, eccetera, come vi ho già spiegato. Questa è la versione per Windows, adesso io sono sulla schermata di Windows, comunque potete scaricare anche la versione appunto, quella per Mac, c'è scritto qua sotto, basterà che cliccate direttamente qua, io vi lascio sotto il link sia per la versione Mac che per la versione Windows. Una volta che cliccate sul download, si aprirà questa finestra, qua vi spiega, fa anche vedere in automatico qua in un piccolo video come andare a scaricare, io l'ho già scaricato, una volta che avete scaricato, cliccate direttamente sul download e lì vi farà l'installazione. Ovviamente il programma ha una licenza, vi consiglio anche di prendere quella di un mese, anche perché di solito, a meno che non lo facciate per lavoro e non dovete usarlo spesso, potete prendere la licenza di un mese, 45 e 99 in questo momento è anche scontato, se no c'è anche la licenza appunto da un anno, anche adesso scontata, o la licenza a vita che è 99, a questo punto forse tra un anno e quella vita conviene forse quella vita, ovviamente la licenza vale solo per un pc. Quando avete scaricato il programma, io adesso ho già messo la mia chiave, voi riceverete la vostra chiave tramite mail che andrete poi ad inserire ovviamente qua nel programma, qua in alto ci sarà appunto tipo aggiungi chiave, basterà che aggiungete la vostra chiave che avete acquistato e poi avete il programma pronto e bello da utilizzare. Come vedete adesso io qua ho tre hard disk, questi sono i soldi di hard disk interni del pc, che poi hanno un sacco di hard disk esterni, ma ora andiamo a prendere la chiavetta, ci metterò sopra appunto dei file e li cancellerò qua con voi e vi farò vedere subito che li recupererò in modo semplice e abbastanza veloce, questo dipende ovviamente da quanti file ci sono sulla chiavetta, da che quantità appunto di giga dovete andare a recuperare. Ok ragazzola, adesso andiamo a mettere dentro questa chiavetta, che poi in realtà c'è una micro sd, come vedete è da 60 giga, qua mi da 58,2, la chiavetta comunque è vuota, adesso la andiamo a aprire e ci andiamo a mettere subito dentro qualcosa, allora ci infiliamo questo pdf media kit, che è un mio presentazione per brand, agenzia appunto su cosa faccio, chi sono eccetera eccetera, e poi ci andiamo a mettere l'ultimo video che ho caricato giovedì sul mio canale youtube, quello del nuovo tatuaggio, quindi se non l'avete visto andatelo a vedere. Ok, aspettiamo che me l'abbia caricato, ok ragazzoli ce l'abbiamo fatta, allora per adesso abbiamo questi due file qua, te ci mettiamo anche questo png mio, bellissimo, guardate qua che bellezza, niente, questi adesso sono da come potete vedere appunto sulla chiavetta, andiamo ad eliminarli, facciamo così, facciamo elimina, elimina questi elementi, ok, la chiavetta ora è vuota, andiamo a cliccare direttamente qui, abbiamo trovato il risultato della scansione storica, vuoi saltare direttamente no, scansione nuovo, quella è una scansione che avevo fatto precedentemente, che adesso vi andrò appunto a parlare, qua selezioniamo i tipi di file che vogliamo recuperare, comunque vabbè, documenti, foto, audio, altri tipi, facciamo così, quindi inizierà a fare la scansione, poi ovviamente ci metterà più tempo in base a quanti giga è, quante cose magari è cancellato, eccetera, eccetera, come vedete ve le suddivide, quindi file cancellati, nome di file non trovati, file con tag, quindi poi ve li divide anche appunto in cartelle, sia di quelle che è riuscita a recuperarli per intero funzionali, sia gli altri che magari ha recuperato qualche dato, eccetera, eccetera, probabilmente troverà anche altri file, infatti qua ve ne voglio parlare, magari vi metto qualcosa adesso a schermo intanto che ve ne parlo, perché ho fatto delle registrazioni, avevo fatto un test precedente, e avevo usato una schedina SD, sempre che non usavo da tantissimo tempo, l'avevo ritrovata lì, era già vuota, però ho detto proviamo, vediamo se mi recupera qualcosa, mi ha recuperato un sacco, un sacco di video, e foto precedenti, che avevo cancellato, che avevo cancellato da mesi e mesi, Cuni non è riuscito a farmeli funzionare, ma probabilmente erano di vecchie cancellazioni, cancellazioni su cancellazioni, e invece mi ha tirato fuori, una quantità comunque di video, e altri file, che penso siano stati gli ultimi, che avevo cancellato, quindi diciamo che sono rimasto abbastanza sbalordito di questa cosa, e ho ritrovato file che neanche mi ricordavo, come vedete adesso è al 12%, file sono stati trovati, qua mi dice 5 giga e 10, quindi probabilmente ha recuperato più file, adesso qua invece 17 file sono stati trovati, non abbiamo messo i tre, quindi evidentemente mi sta tirando fuori anche altre cose, non ho idea nemmeno io di cosa ci sia, allora ragazzi è passato qualche minuto, ma credo che stoppiamo direttamente qua, anche perché la scansione rapida l'ha già fatta, ha già recuperato i file che abbiamo cancellato, è ancora a 25%, visto che è una chiavetta comunque da 60 giga, ha trovato e sta continuando a trovare vecchi file, che sono tutte le varie cose che ho cancellato, quindi vecchi video che ho registrato, quindi direi di stopparla direttamente qui, qua mi dice che ha trovato i 140 file, eccetera eccetera, andiamo a selezionare allora i file che vogliamo, quindi file cancellati, facciamo recupera, andiamo a metterli questo hard disk, facciamo crea nuova cartella, file recuperati, tac, facciamo ok, recupera e ripara, solo recupera e ripara, così nel caso c'è il sistema anche, come vedete ragazzoli, alla fine ha completato lo spostamento e il recupero, clicchiamo sopra, andiamo a vedere, ha recuperati 6, quindi anche di più di quelli che abbiamo tolto, e vediamo cosa ha recuperato, allora qua ha recuperato il video, non so perché me ne ha messi due, adesso andiamo a vedere, questo è il video completo, come vedete funziona, è in 4K il video eh ragazzi, figata ragazzi, una figata, ok, video recuperato, qua ce n'è un altro, ok, non so perché, li ha recuperati doppi, qua c'è stato un errore penso mio, l'abbiamo recuperato doppio, come vedete c'è anche il media kit, che era quello appunto, che vi avevo fatto vedere, e c'era anche il png, che era appunto la mia immagine, l'importante è che i file comunque ce li ha caricati, come vedete è stato semplicissimo e velocissimo, come avete visto anche sotto, mi diceva che potevo fare una scansione non veloce, ovvero scansione più approfondita, e mi avrebbe trovato un sacco di altri file, mi ne aveva trovato 140, sicuramente su quella schedina, ci sono tantissimi altri file, che ho registrato sia con il drone, che con appunto il DJI, e di altri video precedenti, quindi mi andava a recuperare anche cose ancora più vecchie, che avevo già formattato, top, che dire ragazzi, spero che questo video vi sia stato utile, vi ricordo che vi lascio sotto tutti i vari link, per potervi scaricare TenoShare, non saprei che altro aggiungere, nient'altro, bella!